Un saluto da Gerardo Paterna per ITV e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Abbiamo un graditissimo ritorno in studio, infatti rincontriamo quindi Christophe Feik & Boots di Engel & Falkers Italia. Ciao Christophe, grazie per essere qui. Grazie. Abbiamo una new entry ovviamente, alziamo quindi la quota rosa, in questo caso abbiamo Barbara Quaresmini, License Partner di Engel & Falkers Brescia. Esatto. Grazie Barbara per essere qui. Ciao Gerardo, grazie a voi. Allora perché abbiamo questi due ospiti oggi in studio? Perché con Christophe ci siamo visti due mesi fa e in quella sede stavate lanciando il primo appello per il reclutamento da parte di Engel & Falkers dei consulenti immobiliari da inserire nei vostri shop in Italia. Bene, quindi da 60 giorni a questa parte, cos'è successo? Sono arrivati dei curriculum, avete fatto dei nuovi inserimenti, sono stati aperti dei nuovi shop? So che hai un po' di cose da raccontarci. Sì, infatti oggi vi posso portare buone notizie. Nelle ultime settimane, nell'ultime otto settimane abbiamo ricevuto tante email, tante chiamate, tante persone ci hanno contattato che hanno richiesto delle informazioni, com'è lavorare in Engel & Falkers, cosa significa, ci hanno mandato tanti CV e poi la notizia molto positiva è che nell'ultime otto settimane abbiamo potuto inserire 50 nuovi accenti in tutta l'Italia, quindi anche considerando la pausa estiva è un numero molto positivo, molto elevante e poi siamo ancora per alcuni candidati nella seconda fase di selezione, quindi sono stati contattati per il secondo colloquio, quindi per il recall e quindi secondo me inseriamo anche nelle prossime settimane ulteriori accenti immobiliari. Ci puoi dire quanti curriculum sono arrivati? È una cosa che rimane tra noi, non lo diciamo così. Non lo comunichiamo all'esterno? È una curiosità. Sì, una curiosità, vi posso dare un numero soltanto da noi in sede, quindi non dai nostri license, perché sono arrivati più di 200 CV nell'ultima settimana, quindi anche ad agosto. Ad agosto sì, considerando insomma il periodo è significativo. Sì, il periodo è significativo, quindi tante persone che hanno visto forse questa puntata oppure la nostra pagina online, la nostra campagna, si sono informate, volevano cambiare società, fare un passo avanti, entrare in questo mondo di England Focus, gestire poi anche questi rapporti con i nostri clienti esigenti, la clientela internazionale, quindi adesso hanno iniziato in England Focus, stanno facendo il piano di onboarding, quindi l'introduzione al lavoro, si sono iscritti per i corsi di formazione che hanno luogo quasi ogni settimana qui in Italia, quindi sono partiti bene e sono sicuro che tra poche settimane avranno i primi successi. Bene, ci parlavi però anche di nuovi shop, puoi darci qualche indicazione geografica? Sì, anche da questo punto di vista vi posso portare notizie positive, quindi ci saranno nuove aperture in Italia dal nord al sud, iniziando con Valle d'Osta al nord-ovest d'Italia, poi anche a Jesolo, a Riva del Garda, a Trento, poi in Emilia Romagna, a Ferrara, a Regione, abbiamo potuto festeggiare la festa di inaugurazione a Bologna a fine settembre e poi c'è anche a Modena. Più al sud apriremo a Olvia, in Sardegna, poi a Sabaudia, a Napoli, ma anche in Puglia, a Lecce, a Gallipoli, sono previste delle aperture come anche in Sicilia, come a Catania oppure a Trapani e quindi questi shop, questi nuovi license partner hanno lanciato le campagne di reclutamento e stanno cercando tanti agenti, quindi mediamente 10 agenti per shop nei prossimi mesi. Bene, quindi direi settimane intense, ricche di risultati. So però che adesso state spostando un po' il focus su reclutamento in una certa zona d'Italia, alla quale diciamo avete agganciato anche un evento. Ci puoi dare un'indicazione in quale zona d'Italia adesso farete focus per le prossime settimane? Ok, nelle prossime settimane ci ositerà un evento importante al nord d'Italia, a Brescia. Abbiamo qua la nostra license partner di Brescia, Barbara Quaresmini. La interroghiamo. Sì, poi ci sarà l'interrogatorio. I nostri license partner di Brescia, del Lago di Seo, di Desenziano del Garda e anche di Verona si sono messi insieme per organizzare questo evento perché stanno cercando 30 agenti immobiliari in totale, quindi tra 6 e 8 agenti per ogni singolo shop e quindi questa sarà l'occasione perfetta anche per conoscere meglio la realtà di England Focus. Quindi presenteremo chi siamo, cosa facciamo, dove siamo operativi e poi anche quali sono i vantaggi di entrare in England Focus, perché abbiamo gli strumenti migliori a disposizione, cosa significa e poi anche quali saranno i prossimi passi, presenteremo le singole aree, quindi di Brescia, del Lago di Seo, di Desenziano del Garda e di Verona, i team, gli shop e poi ci sarà anche l'occasione di conoscere meglio ognuno, ogni singolo license partner, agente immobiliare, dei nostri partner, perché ci sarà dopo l'intervento, dopo la presentazione, un piccolo get together, un aperitivo per conoscere meglio le persone, per fare due chiacchiere con tutti. Certo, bene, 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 aspetto l'invito comunque, lo sai che io... Te lo mando subito. Vorrei rischiare di dimagrire troppo, e quindi... Allora, dalla teoria alla pratica. Bene. Anzi, dalla strategia alla pratica, giusto merito anche a chi dà supporto logistico a queste iniziative. Allora, Barbara, tu sei una gente immobiliare con qualche anno di esperienza, diciamo che non sei a primo giorno. No. Ok, perfetto. Come me, ormai abbiamo superato i vent'anni di carriera, no? Quindi, insomma... Un bel numero. Un bel numero, un bel numero, un bel numero. Abbiamo già visto tutto, quindi, ecco. Speriamo di vedere tanto altro ancora. No, assolutamente, noi siamo, restiamo curiosi. No, perché sempre, sempre, da buoni imprenditori si rimane sempre curiosi. Assolutamente. Allora, quindi, di fatto giocherai un po' in casa, no? In questo evento sarei un po' la regista in loco, quindi, diciamo che i tuoi colleghi, diciamo, ti hanno indicato come regina un attimo di questo evento, di questa attività di reclutamento. Quindi, per entrare subito nel merito, chi state cercando? Stiamo cercando, diciamo, sotto il punto di vista imprenditoriale, perché poi le nostre sono tutte imprese, sicuramente persone con un grande spirito di iniziativa e persone che abbiano una certa positività, una certa simpatia, se vogliamo, no? No, perché poi, quando si parla di ambienti relazionali, ci confrontiamo tutti i giorni con le persone, con i nostri clienti, con una clientela anche abbastanza particolare, dobbiamo dirci, perché il nostro target è un target medio-alto e quindi queste capacità devono essere bene forti, ovviamente, oltre a tutto un discorso di competenza che arriva anche dal mondo Engel & Fulkers, soprattutto dal mondo Engel & Fulkers, grazie ad un concetto di formazione sicuramente importante. Nella ricerca che facciamo verso queste persone, puntiamo sicuramente a persone che abbiano quindi questa capacità relazionale, una mentalità imprenditoriale e si mettono a disposizione di una rete molto forte per portare avanti la loro crescita personale e soprattutto professionale, ovviamente, perché questa è la grande opportunità che diamo in Engel & Fulkers, in un ambiente bello, dinamico, devo dire, di grande visibilità, di grande visibilità perché questo mondo nostro ci porta questo grande vantaggio e quindi aspettiamo con grande gradimento e fiducia queste persone. Quindi, allora, direi, prima di tutto quindi agenti immobiliari, diciamo già abilitati, che oltre ad una, diciamo così, carriera comprovata, siano però, mi è piaciuto molto porre l'accento sulla parte umana, quindi volete persone simpatiche, persone che sappiano lavorare in squadra e che portino una bella ventata di positività nelle strutture. Però so che avete riservato anche uno spazio per chi ancora agente immobiliare non è, ma magari è incuriosito dal settore e magari vuole affacciarsi e vuole diventarlo. Assolutamente sì, Gerardo, nel senso che alcune figure professionali, magari soprattutto figure professionali, che hanno vissuto nel mondo del commerciale, quindi si sono magari di volte al mondo della vendita in altri settori, oggi trovano nella nostra offerta delle opportunità dove, dove attraverso la disponibilità loro di approntarsi e di avvicinarsi attraverso il corso che porta all'abilitazione dell'agente immobiliare, iniziare questo percorso di agente immobiliare in Engel & Fülker, sempre supportati ovviamente dalla nostra rete. Bene. Quante persone aspettate nei vostri... Tante. Tante. Allora, su questo spendo delle parole importanti perché tutti i nostri shop hanno un numero importante di agenti immobiliari o di futuri agenti immobiliari perché cerchiamo di fare in modo che il nostro cliente abbia un'attenzione molto alta. Quindi abbiamo, come tutti gli abiti sartoriali, degli agenti immobiliari dedicati a determinati prodotti, ad una quantità di prodotti di un certo tipo. Per farlo, visto che nessuno di noi ha il dono dell'obiquità, è importante avere un X numero di agenti immobiliari che abbiano la possibilità di gestire il loro territorio, ma soprattutto di gestire le relazioni, che per noi è un aspetto molto importante in questo tipo di target. Ok. Quindi diciamo che non c'è un numero chiuso? Cioè noi aspettiamo, selezioniamo 22... Come diceva Cristof, come diceva Cristof, Gerardo, il nostro obiettivo è una trentina di agenti immobiliari in questo momento, in questa prima fase. Quindi sei, otto agenti per Verona, per Lago di Seo, Desenzano e Brescia. Quindi siete avvisati? Ecco, quindi li aspettiamo, questo è il nostro primo step, il nostro primo obiettivo, attraverso questo evento importante di recruiting, nel quale avremo piacere di far conoscere la nostra struttura, i nostri vantaggi, la nostra competitività chiaramente sul mercato, cercheremo di ottenere questo tipo di risultato. Ti do un dato, però, visto che hai chiesto un dato a Cristof, ad oggi per questo evento abbiamo ricevuto circa 90 curriculum. Ah, bene, benissimo. Quindi è un dato oggettivo, ma siamo qui oggi per poterne ricevere altri, per dare delle opportunità di scelta, in quanto poi chiaramente verrà fatta una selezione e quindi di portare a compimento questo nostro progetto. Bene, bene, bene. Allora, volevo farvi un paio di domande che di solito, voglio dire, vengono poste, che di solito incontrano una certa resistenza. Cioè, allora, l'agente immobiliare che, così, verrà poi introdotto nei vostri shop, che tipo di attività dovrà svolgere? Ovviamente, acquisizione, vendita e gestione. Però, come si articola la giornata tipo di un consulente in Engel & Fulkers? Ottimo, è un'ottima domanda, direi, Gerardo. Se posso, Cristof. Prego. Diciamo che le grandi aree temporali della giornata di un agente in Engel & Fulkers sono dedicate sicuramente alla costruzione della propria immagine, della propria relazione nel territorio che viene assegnato. Quindi parliamo di zone di competenze, parliamo di esclusività territoriale e quindi è importante che l'agente Engel & Fulkers possa essere riconosciuto nel territorio per competenza, per esclusività, per passione, che non a caso sono i nostri valori aziendali e attraverso questo tipo di discorso mette in campo delle attività che possono portarlo a questo. Ovviamente, come Shop, Engel & Fulkers e License Partner, supportiamo gli agenti nelle varie situazioni, anche creando eventi, incontri con un target di un certo tipo per facilitare questo tipo di incontro tra il cliente Engel & Fulkers, acquirente o venditore, e il nostro agente. Per noi, come l'Ice & Partner o Office Manager, il nostro cliente primario è l'agente immobiliare. Il cliente primario dell'agente immobiliare è il cliente venditore, il cliente acquirente. Quindi noi facciamo di tutto, faremo di tutto, per fare in modo che queste persone che entreranno nel nostro gruppo possano essere proiettate con tutte le competenze e capacità nel mondo, chiaramente, della vendita Engel & Fulkers. Bene, bene. Potete dare un accenno anche sugli aspetti economici retributivi? Certo, certamente. Dicevo prima che una caratteristica dei profili che andiamo a ricercare è la mentalità imprenditoriale. È importante sapere che chiaramente in Engel & Fulkers, così come in altre realtà ovviamente commerciali, si entra in qualità di imprenditori e come tale sia un unico grande obiettivo come tutti, arriviamo da vent'anni di esperienza, è sicuramente vendere. Anche se dobbiamo sempre ricordarci che vendere è una conseguenza di un risultato, quindi è un percorso e per la metodologia, applicando il metodo Engel & Fulkers in tutte le sue parti, la vendita è un semplice risultato di tutto questo. Che cosa offre Engel & Fulkers? Sicuramente un alto, chiamiamola tabella provvigionale ed è un aspetto importante perché noi cerchiamo all'interno del nostro staff delle persone che sono a nostro fianco, sono imprenditori di loro stessi e devono avere la volontà, la voglia chiaramente del nostro team, ma soprattutto perché vengono per guadagnare, quindi è un'attività che dà delle ampie opportunità, non neghiamoci Gerardo che trattiamo immobili di una certa importanza, di certi importi quando parliamo di situazioni provvigionali, quando abbiamo immobili da un milione, un milione e mezzo due milioni, iniziano a essere delle provvigioni abbastanza importanti. Io ho tutto l'interesse per fare in modo che il mio agente guadagni bene. Sì, è nelle migliori condizioni di fare. Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, il marchio lo conoscono, il brand lo conoscono in tanti, però vorrei spendere proprio un paio di minuti sui punti di differenziazione rispetto, diciamo, alla concorrenza che comunque in questo target è abbastanza limitata. Sì. Cos'è che vi differenzia come Engel & Fulkers rispetto alla moltitudine, diciamo, di player che vorrebbero, ecco, trattare in modo professionale questo segmento di mercato? Io magari accenno due cose lasciando poi la parola a Christophe su questo per entrare un po' nell'ambito locale e anche del territorio in cui stiamo offrendo questo tipo di opportunità. Io vorrei sottolineare un aspetto molto importante. Engel & Fulkers è, lo traduco in opportunità, chiaramente per le nostre persone, i nostri candidati, è un marchio molto conosciuto in un certo tipo di ambito, in un certo tipo di target e questo permette al candidato di essere aiutato, perché è una porta aperta, molto aperta. Questo perché? Perché chiaramente, e qui arrivo, Engel & Fulkers ha un respiro e un profilo internazionale e questo permette alle persone, venditori, acquirente, di associare questo marchio a un marchio di fiducia, a un marchio che rappresenta qualità, a un marchio che rappresenta affidabilità. Quindi esiste sul mercato da tantissimi anni, 38 se non sbaglio, questo dà delle certezze a chi si avvicina alla nostra struttura. Quindi questo è già un passo molto importante per fare in modo che il nostro agente immobiliare, il nostro consulente immobiliare possa predisporsi, o il cliente si possa predisporre nei nostri confronti in maniera assolutamente positiva, aperta, con un concetto di fidelità al brand molto forte. Aggiungerei anche che quello che abbiamo a disposizione come shop, come agenzia di intermediazione è la qualità dei servizi. Noi abbiamo sotto questo punto di vista un piano di marketing, tra l'altro sartoriale per ogni immobile dobbiamo dirci, che porta sui nostri tavoli riviste di settore al top, con dei redazionali molto importanti, la qualità del prodotto che andiamo ad offrire è di una certa importanza e ovviamente sotto questo punto di vista, parlando di qualità dei servizi, il nostro agente ha a disposizione una piattaforma molto importante, un CRM molto importante, che è condiviso tra l'altro con tutta la rete internazionale, che è uno strumento importantissimo per la quotidianità, per la quotidianità, per la gestione del proprio tempo e della propria organizzazione. Ha fatto i compiti a casa? Ha fatto tanti i compiti, perfetto così. Bravissima. Me li fanno fare, me li fanno fare, me li fanno fare. Bene, bene. Allora, direi tempo esaurito, se non poi mi tirano le orecchie, sapete, però vorrei un attimo soffermarmi proprio su questo evento. Quindi abbiamo detto 27 ottobre del 2016, possiamo dire dove e a che ora? Hotel Vittoria, hotel Vittoria e via 10 giornate, quindi a Brescia, a Brescia e quindi vi aspettiamo assolutamente in questo shop, avrete modo di vedere. Sì, sì, adesso la grafica è in sovrimpressione dove ci sarà il link praticamente all'evento di reclutamento, comunque angleandfolkers.com slash italia slash evento di reclutamento. C'è sempre a disposizione anche un indirizzo email che è italiachiocciola angleandfolkers.com. Comunque diamo il tempo, voglio dire, a chi ci segue di prendere appunti e noi comunque restiamo disponibili per ogni richiesta di informazioni, giriamo prontamente tutto a angleandfolkers. Allora, ci congediamo, quindi salutiamo chi ci sta seguendo, li invitiamo quindi a presenziare a questo evento e a mandare curriculum in modo tale da poter cominciare questa nuova carriera. Quindi da Christophe Feichenwitz, Barbara Quaresmini e Gerardo Paterna, un saluto e ci vediamo alla prossima occasione, sempre su ReTV. A presto. Grazie.